Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Il noto conduttore Paolo Del Debbio si trova al centro di una tempesta in casa Mediaset. Le sue uscite sopra le righe, le parolacce e gli attacchi continui agli autori e alla regia stanno mettendo a dura prova la pazienza dei vertici dell'emittente. Nonostante i buoni numeri ottenuti con il programma dritto e rovescio, sembra che la situazione stia sfuggendo di mano. Secondo quanto riportato da Dagospia, Del Debbio sarebbe diventato un problema per i dirigenti di Mediaset a causa del suo comportamento eccessivo. Le tensioni sarebbero emerse già in passato, quando il conduttore si era scontrato con Pier Silvio Berlusconi per questioni politiche. Del Debbio si schiera apertamente dalla parte del governo e dei partiti di destra, adottando uno stile provocatorio che sembra non essere gradito ai vertici dell'emittente. Il rischio è che Mediaset possa decidere di intervenire per evitare una deriva indesiderata nei talk politici, simile a quanto accaduto con i reality show considerati troppo trash. Del Debbio, insieme ai suoi colleghi Porro e Giordano, potrebbe essere chiamato a rivedere il suo comportamento per evitare conseguenze più gravi. Nonostante i buoni risultati ottenuti con dritto e rovescio, Del Debbio potrebbe trovarsi in una posizione precaria se non riuscirà a moderare il suo atteggiamento. La concorrenza con il programma Piazza Pulita potrebbe diventare più agguerrita e con Pier Silvio Berlusconi al timone nessuno è al sicuro. Del Debbio dovrà fare attenzione a non superare certi limiti se vorrà mantenere il suo spazio.